No, regà, quel paracadote è bellissimo La macchina è veramente bella Oh, feels good, man Ok Un loot un po' assai misterioso Ok, andiamo a meglio Vedete che ancora sono un po' lenta, regà Dopo 12 giorni che non ho giocato nella mia postazione, madonna Sento un po' la differenza Ok Vedete la presa Qua cosa c'è? Un altro pump ma non lo voglio Ok Ok Vado a sto cosi fa vendere ogni volta un collasso Ora devo vendere sti quattro cosi Tipo le quattro bandiere nelle città principali Perché sto a questo mi ha proprio stancato, giuro Non ne posso più Oh my god Manca qualcuno assolti Ah, lì non è lootato What? Allora qui ho qualcuno snapperato Snapperato Mamma mia Proprio dritto sotto il tallone My friend Ok Qua c'è un'altra bandierina da prendere Così mi levo il pensiero Perché vi giuro ogni volta Prendo sto cosi mi viene una Una paralisi Muto il game così non sento l'audio Perfetto Ok Va bene Va bene Oh man Ma porca troia Carrotate Ciò bello No mai ne ringrazio per la passerella Vai Grazie Ok La madonna Let's go baby Ciao bello What? Ma in se c'è ancora quel tizio Clean boy Clean boy Uh pistoletta Let's go baby Ovviamente Alla voli vivi non dico di no Cioè questa è palese Mai nella vita Sarebbe una blasfemia Ancora 20 persone ragazzi Sono un sacco di persone viva Dai Very nice Very nice Sono pure full mats Mi serve tanto uno shieldone Sono a posto Non si notano che sono viola Eh lo so Rosina Ma perché dalla cam Purtroppo è così Però tipo guarda Vedi? Si vede che comunque è viola E qua la cam è normale Perché devo levare la Devo togliere l'opzione right light E quindi i colori diventano più scuri Sono la cam tipo frapsa tantissimo Sono costretta a fare così Cioè a tenerla così Vedi che Grazie. Mi dispiace per il litio che ho buttato. Fanculo a me. Fanculo a me. Fanculo a me. Fanculo a me. Là è morto qualcuno. Oh, quello è un chug chug. Ah, ci sta per forza qualcuno ancora lì. Non ci credo che ci sia tutto quel loot. È impossibile. Ok. Va bene. Vuol dire che il tizio era full, allora. Perché devi connettere... Devi connettere Amazon Prime con Twitch Prime, tizi. E poi puoi subarti usando il Prime, appunto. Ok. Ok. Perfaian. Questa. Questa. Grazie a tutti. 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 A 15 bombe, è stato un game molto clean, proprio un game clean as fuck. Nice. Ok. Grazie a tutti.